Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monosport 07 siamo qui per recensire una gara di MotoGP ragazzi una gara che è veramente stata bella perché finalmente oggi stiamo anche alla telecamera, la Ducati è tornata al top ma torna al top con il suo pilota drop Francesco Bagnaia che ora finalmente in classifica è il primo dei Ducatisti perlomeno i Ducatisti ufficiali, quelli che hanno una moto quella più aggiornata perché la prima Ducati proprio di base sulla carta è la Ducati Cresini di Bastianini che conserva ancora 13 punti di vantaggio su Pecco, anche se comunque a lungo andare io credo che Pecco potrebbe dare veramente una bella regolata a Bastianini Bagnaia che ha avuto veramente un mondiale molto movimentato finora ma finalmente arriva la sua prima vittoria nonché primo W, nonché primo hat-trick stagionale poi il vittorio a giro veloce ma a conti fatti in classifica guadagna solamente 5 punti da quarta raro prima di questa gara era a meno 38 e ora è a meno 33 quindi insomma ragazzi siamo lì e ha poi i punti con Mir e anche Marquez più o meno è lì lì ragazzi parleremo sicuramente di tutto però partiamo sicuramente dal duello Bagnaia-Quartararo che ha contraddistinto tra le altre cose anche la scorsa stagione io penso che adesso si faccia sul serio ragazzi cioè che adesso stiano comunque iniziando ad uscire i veri valori perché ora arrivano le piste europee che sono piste sicuramente più guidate che vanno più a favore di Quartararo ma Quartararo sembra aver forse acquisito il colpo io credo che tra Quartararo e Bagnaia il più veloce ieri sia stato Quartararo nel senso se Quartararo avesse dovuto insomma sopravanzare Bagnaia al via Bagnaia a Quartararo per me non lo riprendeva più perché tra i due ne aveva più Quartararo ma questa ieri si è tenuto i punti in breve ieri Quartararo ha agito per il mondiale non ha voluto rischiare anche perché la Yamaha per superare un pilota davanti deve faticare perché è una moto tutto telaio e poco motore anche se è in MotoGP rispetto alla Formula 1 comunque la categoria delle quattro ruote è più semplice superare in staccata rispetto a una Formula 1 sicuramente perché le moto sono più piccole ma anche perché appunto se Quartararo è quello che stacca meglio però Quartararo se poi Bagnaia è quello che si allontana in rettilineo non ci puoi fare un cazzo in quei casi lì devi studiartelo e preparartelo veramente veramente bene il sorpasso detto questo io credo che siano in questo momento i due favoriti per vincere il mondiale anche se vede un pelino davanti Quartararo perché Quartararo finora ha avuto delle gare no in Indonesia poteva vincere Argentina, America e Qatar è stato ridosso dalla top 10 quindi vedere un Quartararo primo ma un Quartararo che finora ha reso al 70-80% invece che nel 100 perché lui già di suo qualcosina secondo me in qualche gran premio se l'è fatta scappare se poi ci mettiamo che la moto era quella che era o perlomeno non si trovava bene con Quartararo e di questo ne parleremo sicuramente tra un po' per il fatto che questa moto la guidi bene su un Quartararo e io sono sicuro di quello che dirò tra poco io credo che Bagnaia avrebbe dovuto approfittare di questo momento no di Quartararo invece il momento no l'ha avuto addirittura più Bagnaia di lui perché Bagnaia da 4 gare a questa parte si sta facendo benino perché ha fatto due quinti posti consecutivi che comunque è un malissimo risultato non sono in Argentina e in America ha fatto ottavo in Portogallo partendo ultimo e se fosse partito davanti sarebbe probabilmente giocato il podio e qui ha fatto primo con un Attic quindi veramente bene Bagnaia ha perso tutti i punti che ha distacco da Quartararo nelle prime gare perché Quartararo nelle prime gare ha fatto 28 punti e Bagnaia ne ha fatto uno se sfondiamo con le due gare Bagnaia sarebbe solamente a meno 4, meno 5 da Quartararo o comunque una cagata del genere quindi paga sicuramente le prime due gare e paga l'infortuno ora Bruno non ha più scusa deve cercare di trovare 3, 4 gare di continuità compresa questa cioè io mi aspetto un Bagnaia che tra Francia, Italia e Catalogna mi porti a casa se il bottino massimo sono 75 punti io spero che Bagnaia ve ne porta a casa almeno 55, 56 che comunque non sono male portare a casa 55 punti vuol dire per esempio fare un primo posto un secondo posto e un sesto posto per farvi capire sono 45 sì più o meno siamo lì ragazzi quindi io mi aspetto che Bagnaia possa fare veramente veramente bene nelle prossime tre gare per recuperare quello che ha perso nelle precedenti perché Bagnaia veniva da 5 gare dall'inizio del mondiale dove non aveva ottenuto neanche un podio neanche una pull e ora finalmente si è messo in gioco quinto in classifica meno 33 dalla vetta che sono comunque tanti ma non tantissimi considerato che ci sono ancora 14, 15 gare da percorrere e quindi può recuperare quanto a Quartararo c'è un altro discorso da fare che approfondirò dopo con insieme a tutta la Yamaha però io vedo con una Leish Spargaro che sorprendentemente ieri era ultra competitivo non ne aveva quanto Quartararo e Bagnaia che erano veramente veramente di un altro pianeta ma ragazzi ha fatto veramente una grande gara è arrivato terzo anche grazie all'errore di Marquez però non fosse stato per l'errore di Marquez comunque Alessio Spargaro era il più veloce tra Miller, Marquez e Aleish il più veloce era proprio Alexio Spargaro infatti appena ha superato Marquez e Miller ha detto ciao io me ne vado è terminato la gara guadagnando due secondi negli ultimi due giri sia su Marquez che su Miller Miller che è quinto a posto si porta comunque il 6 in pagella pagella che probabilmente arriverà in settimana si porta il 6 in pagella ok Miller ed è devo dire la quarta gara dove comunque riesce a fare il ritorso delle prime posizioni perché Miller è dietro Bagnaia in classifica però sono tre gare che si combatte podio-vittoria perché lo fa una volta in due gare sta cosa l'ha fatto in Indonesia dove si è combattuto il podio l'ha fatto in America dove è arrivato terzo e l'ha fatto in Spagna combattendosi il podio si combatteva il podio anche in Portogallo però purtroppo in Portogallo è caduto poi è caduto anche in Qatar no Qatar non è colpa sua è la maledetta elettronica e ha fatto un inedito quattro dicesimo posto in Argentina ma finora Miller io direi che non ha sfigurato se hai bisogno di sostituire Miller con Martin io credo che sia una cosa veramente inutile questa qui di Ducati io sono sicuro al 100% che Martin non è un pilota molto continuo anche se è fottutamente veloce se devi proprio sostituire Miller ti vai a prendere o Bastianini o basta perché Zarco non credo che a quell'età possa essere promosso nel team ufficiale io riprenderei tutta la vita a Bastianini se poi potete sostituire Miller fare una coppiata tutta italiana e puntare su due piloti che sono veramente continui e veloci cercando di fare avere lo stesso stile di guida perché questa Ducati quando è al 100% si adatta molto di più allo stile di guida di Bagnaia che alla continuità diciamo così di Miller ragazzi quindi per il mondiale le Suzuki sembrano aver fatto un passo estremamente indietro questo weekend e quindi io dico che i favoriti sono Quartararo e Bagnaia però anche Aleix e Spargaro Rinza e Miro sono sicuro che possono giocarsela Bastianini a lungo andare la vedo veramente veramente dura invece quanto riguarda la Yamaha io credo che ci sia un discorso molto ampio da fare allora le prime gare Morbidelli aveva quasi sottolineo quasi il passo di Quartararo o comunque ha fatto veramente delle ottime prime gare Morbidelli perché le prime tre gare non era così distante da Quartararo da Quartararo si prendeva uno due decimi al giro come giusto che sia Quartararo è campione del mondo era più esperto su quella moto quindi era giusto vedere in Qatar Quartararo settimo no scusate Quartararo nono in Qatar e Morbidelli undicesimo ci sta due posizioni di differenza più o meno giravano anche sugli stessi tempi così come in Indonesia e qui è già un po' più ampia la differenza delle posizioni con Quartararo secondo e Morbidelli settimo ma c'è da dire che Morbidelli comunque aveva il passo dei primi quella gara tant'è vero che ha dato 20 secondi a quello che è arrivato ottavo quindi aveva il passo dei primi Morbidelli e ci stava quindi i problemi Yamaha c'erano c'erano anche per la seconda Yamaha la Yamaha with 2 di Binder e Dovizioso però comunque Binder sempre in indonesia è riuscito a fornire una decima posizione veramente ottima per quello che è il suo referto poi qualcosina è cambiato soprattutto a partire dal GP delle Americhe cioè che questa moto si adatta solo e solamente a Quartararo perché Quartararo rispetto a prima è migliorato infatti ha fatto poi la vittoria a Portogallo e secondo in Spagna Quartararo rispetto a prima è migliorato molto perché da nono è passato a essere primo, secondo, terzo, quarto, quinto no? Morbidelli è passato dall'essere settimo ottavo, nono all'essere quindicesimo, sedicesimo come cazzo è possibile e questa cosa l'hanno accusata anche Dovizioso e Binder quindi hanno fatto una moto nelle ultime gare che è più Quartararo rispetto a Morbidelli Dovizioso e Binder il problema è che Morbidelli, Dovizioso e Binder hanno tutti e tre lo stesso problema Dovizioso nella lite interna con Quartararo per me aveva estremamente ragione lui ha detto Quartararo è libero di pensare a quel cazzo che vuole è chiaro che se lui è forte nelle curve dice cavolo mi manca più rettilineo ma se io sono un pilota costante che ti prende in mano quello che c'ha e prova a dare il massimo quello che è Dovizioso che comunque con qualsiasi moto è andato è sempre stato buono e il Dovi probabilmente lì aveva ragione mancava probabilmente grip a questa Yamaha perché sia lui sia Morbidelli sia Binder sono peggiorati mentre Quartararo è di molto inoltre migliorato quindi io credo che questa Yamaha cosa fa? Punta tutti su Quartararo? Non lo so per me non ho già Morbidelli in un periodo dove non lo vedo affatto bene se poi ci mettiamo questo Dovizioso è più o meno rimasto costante però lo vedevo meglio le prime gare assolutamente è arrivato un dicesimo in Portogallo perché è caduto mezzo mondo davanti a lui in Portogallo si sono ritirati per dirvene alcuni Rolf Fernandez di Gian Antonio Brad Binder Johan Mir Jack Miller e Orge Martin che si è ritirato pure in Spagna ieri tanto per cambiare sono 4 gare su 6 che Martin non riesce a finire a punti quindi male male anche se le due gare che ha fatto ha dimostrato di essere un pilota veloce ha fatto due pole però insomma quindi Yamaha che cazzo succede dicelo tu alla Honda io andrei a fare un discorso praticamente inverso a quello fatto alla Yamaha se è una moto fatta per tutti va bene più a Marquez rispetto agli altri perché Marquez saltando due gare e ora devo bere perché sennò non ce la faccio più Mark Marquez saltando due gare ragazzi ha fatto le stesse top 10 di Paul Espargaro Nagagami e Alex Marquez messi insieme Alex Marquez è una top 10 Nagagami una Pol Espargaro 2 quindi tanto vale puntare sull'alieno provare a ottenere qualche vittoria al podio magari giocarsi il mondiale perché Mark Marquez è l'unico pilota insieme a Johan Mira ad essere terminato sempre nei primi 6 quest'anno ed è un dato secondo me assolutamente da non sottovalutare quindi Marquez può giocarsi il mondiale sì è a 45 minuti da quarta raro che è un'enormità dopo 6 gare però rimangono ancora 14-15 gare alla fine se ne vince 6 o 7 magari perché per me Marquez se sono sicuro al 100% è il pilota più forte in pista se Marquez è al 100% è un pelino sopra quarta raro e due pelini sopra bagnaia se parliamo di quanto è forte il pilota in sé quindi insomma tanto male puntare su di lui la Honda è un discorso secondo me inverso a quello che bisogna fare a quarta raro perché purtroppo la moto non rende è inutile neanche poi le Spargarone a Kagami riescono a tirarla la moto non rende ok che la Kagami ormai sta solo tirando il posto ad augura sta solo tenendo il posto però io sono sicuro al 100% che la Honda deve puntare su Marquez perché Marquez è l'uomo che ti può fare polti ti può fare vittorie ti può fare podi anche se fino a ora non ne ha ottenuti dopo 6 gran premi inizia a essere un dato importante però Marquez con quelle due gare che aveva da recuperare dove faceva 20-25 punti magari in due gare quindi vuol dire magari due quinti posti io per tirarla bene puntarsi pure che una delle due la vinceva però poteva essere in questo momento a meno 20-25 da Quartararo che sicuramente già era un distacco molto migliore fatemi sapere la vostra su Marquez detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto rimediali a lasciare un mi piace se non trarai un dislike commentate se siete d'accordo o disaccordo con me se non l'hai ancora fatto iscrivete al canale in descrizione il link per sicuramente su Instagram domani spazzate e tutti ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti